Ciao a tutti! Tesla è stata quotata in borsa a giugno 2010 ad un prezzo di apertura di 19 dollari ad azione. Ormai sono passati quasi 10 anni e la performance delle azioni è stata a dir poco stellare. Infatti chi avesse comprato 1000 dollari di azioni Tesla il giorno della IPO ad oggi avrebbe 29.000 dollari. Chi invece fosse stato un po' più coraggioso e avesse comprato 10.000 dollari in azioni Tesla oggi avrebbe 290.000 dollari. Infatti adesso Tesla vale 565 dollari in azione. La corsa in borsa della casa automobilistica è stata degna di una Ferrari ma come avrete intuito dal titolo del video la situazione è a dir poco strana. Infatti la valutazione di Tesla ha raggiunto livelli astronomici. Elon Musk vuole trasferire l'umanità su Marte ma per ora l'unica cosa che è riuscito a fare è stata portare la valutazione di Tesla nello spazio. Ok adesso bando alle ciance e diamo un'occhiata ai numeri. La capitalizzazione di mercato cioè il valore totale di Tesla è di 100 miliardi di dollari. Invece la capitalizzazione di BMW e Daimler messe insieme è di 95 miliardi di euro. Ferrari invece vale 43 miliardi meno della metà di Tesla. Ciò che è ancora più inquietante è il fatto che sia BMW che Daimler a differenza di Tesla sono aziende molto profittevoli. L'utile netto di Daimler e BMW nel 2018 è stato intorno ai 7 miliardi mentre Tesla non ha mai avuto un anno profittevole. Ma il dato più folle sono i ricavi. Infatti BMW e Daimler messi insieme totalizzano 264 miliardi di euro mentre Tesla totalizza miseri 21 miliardi. Quindi Tesla ricava un dodicesimo dei due colossi tedeschi ma quota conta entrambi messi insieme. C'è qualcosa che non quadra. L'unica casa automobilistica a valere più di Tesla è Toyota e ciò che è molto strano è che neanche Ferrari che è la più rossuosa e quella che viaggia sui multipli più alti si avvicina lontanamente alle valutazioni di Tesla. Per rispettare le aspettative derivanti da una valutazione così astronomica Tesla dovrebbe diventare profittevole a partire dal prossimo anno. Dovrebbe riuscire a costruire macchine autoguidanti entro i prossimi 5 anni e dominare il mercato delle automobili elettriche nel corso della prossima decade. Voi pensate davvero che con la competizione delle case automobilistiche storiche come BMW, Daimler, Toyota, Volkswagen e tutte le altre questa piccola azienda di palo alto riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi che il management mi lanta? Io ne dubito fortemente. Ma com'è possibile che la valutazione di Tesla sia così alta? Cosa spinge Tesla sempre più in alto? Sono le aspettative che Elon Musk è riuscito a creare. Infatti il mercato ha fiducia nel genio sudafricano già capace di battere tutte le aspettative sia con Paypal che con SpaceX. Elon Musk è capace di far sognare il mercato. Infatti a suo dire nei prossimi anni Tesla sarà in grado di produrre camioni elettrici, taxi autoguidanti e macchine autoguidanti e tutto ciò dovrebbe distruggere il mercato automobilistico come lo conosciamo noi oggi. Ciò che dà forza alle parole di Elon Musk sono i fatti, il suo passato. Infatti dal 2014 ad oggi le vendite di Tesla sono cresciute del 5.700%. Però le vendite dell'azienda americana non potranno crescere così in eterno e adesso pian pianino anche le grandi case automobilistiche iniziano a produrre le loro macchine elettriche e daranno una forte competizione alla casa americana. Al momento Tesla ha una netta dominazione del mercato delle auto elettriche e produce il prodotto migliore. La sua Model Free infatti è una macchina fantastica. Però per quanto potrà durare questa dominazione? Adesso che anche le grosse case automobilistiche come Volkswagen, Toyota, Renault, Peugeot si stanno tutte mettendo a produrre macchine elettriche la situazione probabilmente cambierà. Quindi a mio parere considerando tutti questi fattori la situazione è da dir poco inquietante. Perciò vi consiglio di fare molta attenzione se avete intenzione di comprare azioni Tesla perché potreste farvi davvero male. A mio parere Tesla è la più grossa bolla dal 2008. La valutazione dell'azienda automobilistica ha raggiunto livelli molto simili a quelli delle aziende tech nel 2000 e sapete bene come è andata a finire. Lascia a voi l'ardo la sentenza. Per questo video è tutto. Ciao!